60 seconds della domenica sera ragazzi parliamo di sport perché vabbè oggi addio le gare di valentino rossi un quarto di secolo di emozioni che che se ne vanno anche se ok l'ultimo anno gli ultimi due anni di valentino non sono certo stati all'altezza del suo mito ma come altre volte ho avuto occasione di dire lui si è sempre divertito sempre trasmesso questa voglia di correre divertirsi di provarci quindi non ha fatto bene ha fatto di più siamo noi per decidere se abbia fatto bene male e soprattutto nel bilancio generale se ovviamente le ultime due stagioni nulla hanno aggiunto e nulla potevano aggiungere ma cosa avranno mai tolto quando ne parleremo fra dieci anni zero quindi grazie delle emozioni quelle emozioni che abbiamo vissuto in formula 1 mi sono più volte dichiarato io ho sempre ammirato Hamilton ma in questo caso tifo Hamilton perché questo avversario senza corazon che risponde al nome di Max Verstappen che proprio insito ha una scorrettezza di fondo anche oggi ci ha provato a portarlo accompagnarlo fuori che un modo gentile deve dire ha tentato di buttarlo fuori e poi è stato infilzato come meritava oggi perché in Brasile non ce n'era per nessuno è una di quelle pagine che rendono la formula 1 il mito che conosciamo perché in definitiva è un duello rusticano fra personalità questa è la vera forza da sempre della formula 1 possono cambiare le macchine regolamenti ma in fin dei conti è un duello rusticano fra grandi personaggi e io tifando in modo spudorato per Lewis Hamilton lo ammetto perché non riesco a farmi andare giù Verstappen e o dire mi sto godendo questo scorcio di campionato staremo a vedere anche se la Red Bull globalmente non oggi ma insomma un po' di gare che appare superiore ma 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 e 7 volte campione del mondo e pur sempre 7 volte campione del mondo il mondo non a caso grazie Vale Grazie a tutti.